che cosa sta succedendo non abbiate paura perché porto una novella di grande gioia per voi è nato oggi nella città di davide un salvatore che è cristo il signore e questo sarà il segno che vi porterà da lui troverete il bambino avvolto in fasce e steso in una mangiatoia come to bring us truth and light gloria a dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti